Fabrizio Ciochetti, consigliere della Lega Nord di Regione Lombardia. La Lombardia che ha in un certo senso un po' marcato la nascita di questo nuovo governo perché sappiamo che il modello di federalismo fiscale portato dalla Lega è proprio quello lombardo. A questo punto quindi sarà più semplice secondo lei arrivare all'obiettivo? Penso proprio di sì. La componente della Lega Roma molto forte. La proposta di legge al Parlamento approvata già dal Consiglio regionale della Lombardia ricordiamolo con l'astensione del Partito Democratico quindi non il voto contrario. Quindi sicuramente margini di possibilità anche da parte dell'opposizione a Roma di convergere sulle nostre richieste. È un progetto, una proposta di legge che è già fatta, che non modifica la Costituzione quindi non servirebbe poi il referendum confermativo. Basterà una legge ordinare e quindi anche in tempi brevi potremo arrivare finalmente a un serio federalismo fiscale come era stato poi approvato in Regione Lombardia. La possibilità, intanto per fare quattro conti, per Regione Lombardia di tenere almeno sul territorio 12 miliardi di euro, 24 mila miliardi delle vecchie lire. Questo è l'esempio per Regione Lombardia. Ovviamente poi ogni regione beneficerà di quanto poi prodotto, di quanto poi pagato. Quindi sicuramente un passo in avanti molto importante e concreto e io penso che al massimo nel giro di 4, 5, 6 mesi bisognerà vedere come andranno avanti i lavori a Roma però si potrà arrivare al risultato finale.